Appunto, viene, viene Eccola Togana, guarda, è bellissima Allora, illustraci come funziona Prima di tutto Funziona così, è molto semplice Entri Questo è, diciamo, l'ingresso Prego E tu vuoi uscire dall'uscita Non puoi uscire dall'ingresso Ah, ho capito, ho capito, prego, prego Poi, uno è il controllore Diciamo, e si mette qua Ok, no, bravo, bravo Dove ce la fai? Dai, io non ce la fai? Guarda Allora, dai, dai Vabbè, uno comunque si mette qua Deve essere due i controllori Riattiva i sub Cicco, fai schifo Processo immediato adesso Stimula, perché ha messo il controllore Che quando passa fa Ok Sì, ma senti, ma la roba Do si mette? Ti metto in questa cassa qua E passa tutta in queste hopper Ok E poi si riprende qua E quindi uno sta qui e controlla quello che c'aveva il tipo Ho capito Beh, è bella Ah, è carino È carina Non so se c'è presente Il processo C'è la barella Tipo Che si mette sul nastro trasportatore E passa il raggi X La barella Dammi La barella L'elitra Sì